Sono qui per metterci la faccia di fronte alla partita che abbiamo perso contro una squadra molto forte. Chiaramente abbiamo avuto delle responsabilità anche noi, però non mi sento di stare a fare adesso un'analisi e un commento perché a due partite alla fine del campionato si serve rialzare la testa, crederci ancora, lottare e combattere e noi questo lo faremo. Siamo dispiaciuti, siamo amareggiati perché comunque non ci aspettavamo una serata che è stata anche una serata abbastanza particolare, è assolutamente incredibile per come si è perso, però ripeto, analizziamo che abbiamo perso con una squadra forte e con il CAI si può perdere. Da qui noi abbiamo l'obbligo morale nei confronti nostri, nei confronti di tutti, comunque di rialzare la testa e combattere e lottare fino alla fine. Altro non posso aggiungere perché tanto ogni commento è superfluo. Grazie e buonasera. Grazie.